Tutto facevo? Sì, ho legto tutto. Sarò breve, eh? Sì. Scuso già da adesso per chi riesce. Purtroppo ho avuto varie cose. Tante altre cose da fare che ti invito. Ho solo un esempio. Ho sentito il leggero. Ah, ah, ah. E gli spunti che ti do. Parto proprio dall'ultima frase che ha detto Massimo, Neo. Allora, io mi sono andato a vedere, anche perché stavo rimettendo a posto un po' di carte. Mi sono usciti dal fattore pieno di polvere e le carte del housing sociale iniziali. E stiamo parlando di questo, per esempio, uno studio del Politecnico di Milano del 2006 sull'housing sociale. Quindi, diciamo, non è il meno ora, ma c'è più di 3-10 anni l'housing sociale. Ed è veramente interessante andarsi a vedere questi, quello che si diceva nel 2006-2007. Quindi, io ho fatto appunto alcune copie, si parlava del fatto che i canoni dell'housing sociale del 2006 venivano spacciati a 6 euro metro quadro mese. Noi sappiamo che oggi i canoni dell'housing sociale vanno intorno ai 9, 10, 11 euro metro quadro, come neanche così a Roma. E quindi venivano spacciati per questo, come cosa che sarebbe stato veramente, che chiunque poteva andare a prendersi casa, che sarebbe stato il panacea degli ultimali. E con questo sono stati anche dati tanti soldi, perché con questa promessa di canoni bassi. Questo è, diciamo, quello che era nel 2006. Poi è uscito il famoso decreto della definizione di alloggio sociale, da cui si deve partire. E qui c'è stato, diciamo, il secondo punto in cui è nato il problema. E cioè, la definizione, con questa definizione, noi abbiamo sempre detto che l'alloggio sociale devono entrare in tutti quanti i casi, e che comunque tutti gli altri canoni dovevano passare per gli accordi territoriali, perché dovevamo noi sindacati indicare quali erano i canoni. In realtà tutto quanto questo non è mai avvenuto, i canoni sono sempre stati di fatto previsti dalla Provena. Questo è qui, quindi, il problema, la cosa che è politicamente importante da vedere, per anche il futuro, è che troppo spesso, e ancora oggi, ci spacciano lì per lì delle novità, perché potrebbero portare a cambiamenti, danni che poi i canoni verranno abbassati, ci fanno dire, va bene, possiamo provare l'alloggio sociale, noi ci siamo opposti, ma neanche troppo, perché sembrava, all'epoca, appunto, che si potevano fare tante case a un canone basso, e quindi abbiamo in qualche modo agevolato anche noi in questa idea dell'alloggio sociale, non l'abbiamo combattuto a priori, dopodiché ci siamo ritrovati quello che credo in tutte quante le città ci sia, e c'è i canoni assolutamente fuori, ancora più alti del mercato. E questo è quello che sta avvenendo con la trasformazione degli istituti, casi popolari, aziende o altro, piano piano, dicendo non parliamo più di edifizia sospensionale, di casi popolari, parliamo dell'alloggio sociale, e hanno ridato il nome alloggio sociale, cioè oggi l'alloggio sociale non si parla più di alloggio sociale, si parla di alloggio sociale, e con questo ci fa, avendo cambiato il nome, perché per me abbiamo capito che l'alloggio sociale è una fegatura, e quindi vogliono cambiare, e piano piano, nelle varie norme delle leggi regionali, si sta utilizzando la parola alloggio sociale, dicendo cambiare l'impostazione della casa popolare in casa genericamente, diciamo, appunto sociale, e questo comporterà automaticamente il primo, il cambiamento, e già in molte situazioni ci sta, il cambiamento dell'esistenza stessa degli istituti, e cioè da un welfare si passa a un, chiamiamolo una camerata, ma pur sempre si sta sempre all'interno di un bilancio che deve andare a pareggio, che è una cosa completamente diversa rispetto a quello che è invece l'idea della casa popolare. In ogni regione si fa in modo diverso, appunto si va inserendo il pareggio di bilancio all'interno delle aziende, oppure facendole diventare le proprie società, se piano o altro. Queste, in ogni regione stanno tentando di modificare da edilizia sovvenzionata a alloggio sociale, e questo è quello che noi dobbiamo contrastare, cioè l'idea stessa del passare da un istituto come welfare, e quindi come diritto alla casa. Ricordiamoci che come noi abbiamo sempre fatto questa precisazione, per noi l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata è identico a trasporti, scuola, ospedali, sono servizi essenziali che di per sé vanno in bilancio grosso, cioè che non possono essere equiparati agli servizi che vanno invece, diciamo, che poi portano bilanci a pareggio. Perché sono welfare, fanno parte, la casa popolare fa parte del welfare, e quindi comunque il welfare di per sé non può avere il bilancio al pareggio. Questo è quello che noi dobbiamo riuscire a contrastare in tutte e quante le nostre regioni. Perché per quanto, cioè, in questi anni, rivedendo, diciamo, quello che è successo, noi siamo stati eccessivamente ad andare a tamponare quello che stava succedendo, la deriva, diciamo, dell'idea della rosa sociale. Ci siamo, forse anche noi, un po' fatti affascinare a questa idea che potesse essere la soluzione più case a un prezzo possibile, quindi questo poteva portare dei miglioramenti. E questa deriva ha fatto sì che, appunto, in tutte e quante le regioni ci stiamo accorgendo che sta portando a questo cambiamento proprio dell'idea di qual è il ruolo dello Stato nel diritto alla casa. Quindi aiuto in qualche cosa che, attento, a chi è un contributo, ma non è un intervento diretto, non c'è un finanziamento diretto. Questo è la grossa, l'errore, diciamo, di fondo, forse noi l'avremmo capito, non siamo andati a rivedere alcune delle nostre, le nostre convegne del 2010, in cui noi comunque l'avremmo un po' già messo in guardia su questo. Però quanto noi dobbiamo riuscire di qui, purtroppo, non so se credo in tutte le regioni, così come l'Elazio, purtroppo noi abbiamo gli altri sindacati, anche il Sunna, che fortemente invece in questa posizione del cambiare un'idea o facciamo dare al sussidio a chi non riesce a pagare l'affitto, oppure facciamo appunto gli alloggi, qualche cosa che è un alloggio sociale e poi a seconda se la famiglia è povera può pagare di meno, se no paga di più, ma piano piano la trasformazione dell'intervento dello Stato, il sito di case popolare e agenzile per l'affitto o quant'altro, che è pubblico, piano piano sta diventando di base. La seconda cosa sempre su quello che è alloggio sociale, cioè i suoni privati, è che poi l'alloggio sociale che nasceva come anche intervento pubblico, quello non c'è stato per niente e quindi si è delegato completamente privato. Quindi non so se ci sono nelle varie regioni delle norme più precise sulla scelta dell'inclino, ma per esempio noi nel Lazio non siamo mai riusciti a fare sì che la scelta dell'inclino che tiene la causa sociale in qualche modo sia trasparente, sia governata in qualche modo dal pubblico. C'è sempre stato detto no, questo è un rapporto privato e quindi il gestore dell'asolo sociale poi si scendeva gli inquilini e sappiamo quello che poi c'è dietro a questa scelta dell'asolo dell'inquilino che è ricattato, ricattabile e quindi non c'è nessuna possibilità di intervenire e capire se effettivamente viene dato a chi aveva le caratteristiche. Questo è quello che è avvenuto in tutti quanti questi anni. Ricordo l'unica novità in qualche modo è che rientra parzialmente sull'ausi sociale perché si parla dei piani di zona precedenti e sono anche la sentenza della Cassazione che ha detto che chissà chi ha costruito con le concessioni anche diciamo normative ausensociali, quindi ancora precedenti e quindi i canoni dovevano essere epocanoni o se successiva al 98 i canoni della 431, quelli rimangono anche se le case sono vendute a terzi. Questo è un aspetto molto particolare che in particolare a Roma è molto sviluppato perché ci sono tantissime case costruite in questo modo e privati a Roma. È l'unico punto in cui in questo momento stiamo cercando anche noi che siamo riusciti a intervenire per far abbassare i canoni, se no per il resto per le legislazioni attuali che ci stanno è molto più difficile sia intervenire su chi entra in quelle case sia sui prezzi. A Roma noi siamo riusciti anche a inserire nell'accordo territoriale che i prezzi dell'autoso sociale debbano rientrare all'interno dell'accordo, però anche qui è molto molto difficile riuscirlo a poi effettivamente a far sì che vengano fatti i contratti in quel modo. Io credo che la riflessione che noi dobbiamo fare è sul rapporto appunto tra ausenza sociale e indirizia subvenzionale, quello che dicevo prima. E quindi capire e stare molto attenti a come che nelle regioni non intervenga questa commissione e questo diciamo alla fine far diventare tutto ausenza sociale invece per perdere l'indirizia subvenzionale. Questo è il... Bene, sei stato veloce, ed è importante questo. Chi vuole intervenire, Gianni Belli, viene perché Milano deve essere un dei punti carico, la situazione di interesse di altri soggetti quindi piuttosto pesanti intervento a Milano. Ok. 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 Grazie.